Do la parola alla signora Ministro Chiang che invito al tavolo della Presidenza. Grazie per questo invito perché anche noi oggi come Ministero insieme al Ministero delle Pari Opportunità con l'UNAR abbiamo affrontato questa mattina il tavolo di Rom Sinti e Caminanti quindi come valutazione dopo un anno dalle linee guide europee abbiamo cercato di vedere un attimino riprendere i lavori, vedere anche quello che è stato fatto fino ad oggi. Quindi noi ci siamo lasciati anche con degli appuntamenti molto importanti, il primo punto noi riteniamo prioritario a poter incontrare anche aggiornare dei lavori che stiamo portando avanti, incontrare un attimo di associazione, tutte le associazioni dei Rom Sinti per riuscire anche a condividere insieme a loro, quindi cercare di condividere i percorsi che stiamo facendo prima di andare oltre. Il tema che è uscito molto forte anche all'interno di questo tavolo questa mattina è stato quello dello Stato giuridico. Quindi noi ci siamo soffermati molto sullo Stato giuridico e su questo quindi andrà avanti un lavoro coordinato anche dal Ministero degli Interni quindi con tutti gli altri ministeri per cercare di dare forma e corpo a questo progetto per riuscire a definire lo Stato giuridico delle comunità Rom e Sinti. Noi pensiamo che sia un punto fondamentale da qui partire anche per cominciare ad affrontare altri temi che possono essere quella della sanità, che possono essere anche quella dei documenti ma che sono anche quella delle generazioni future. Quindi se non risolviamo lo Stato giuridico sicuramente noi riusciamo a sanare soltanto una generazione ma difficilmente riusciamo a coinvolgere tutte le altre generazioni e mi sembra che sia importante come a tutto il gruppo di lavoro, urgente e importante riuscire una volta per tutto ad affrontare questo punto dando delle soluzioni anche a delle generazioni future. Quindi il nostro obiettivo come vedete incrocia anche il lavoro che si sta portando avanti qua che è quella di centrare l'attenzione sullo Stato giuridico e riuscire a dare una soluzione concreta a tutto il percorso. Un altro punto importante è anche quello dei tavoli tematici che noi affronteremo quindi oltre alla giornata che abbiamo affrontato oggi avremo anche degli incontri tematici quindi per la salute, per il lavoro, quindi per l'integrazione lavorativa, per il tavolo delle politiche abitative, quindi integrazione a livello abitativo per quanto riguarda l'istruzione e la scuola. E anche qui un punto molto importante che ci è stato riportato comunque all'interno del nostro incontro è quella della dispersione scolastica. Quindi un impegno che ci ha affermato il Ministero dell'istruzione è quella di un impegno molto forte per combattere la dispersione scolastica. Oltre a questo punto quindi noi abbiamo anche un altro elemento che riteniamo sia fondamentale è anche quella di riuscire ad accompagnare comunque molte delle comunità, cercare di accompagnarle anche nel percorso di integrazione sul territorio. Quindi i quattro assi sono stati un po' contemplati questa mattina durante i lavori e cercheremo di portarlo avanti e di concretizzarlo. E noi con i lavori che portiamo avremo l'opportunità di aprire anche i lavori il 28 di ottobre, quindi ci sarà una comunicazione nei prossimi giorni anche con un programma abbastanza dettagliato con il Consiglio d'Europa, sempre sui temi che riguardano Rom, Sinti e Caminanti. E quindi io penso che questa moltiplicazione di eventi possa soltanto essere positiva nel cercare di concentrare tutta l'attenzione su un tema così delicato che oltre a chi magari è del settore, oltre a chi si è sempre interessata di questo tema, molte volte diventa difficile portarlo fuori. Noi dovremmo lavorare molto di più anche per riuscire a far capire fuori che non lavoriamo soltanto per una comunità e che quando vengono indeboliti i diritti degli uni, vengono di fatto indeboliti i diritti di tutta una comunità. Non lavoriamo soltanto per dare una soluzione a un gruppo, ma la soluzione deve essere vista come un bene comune, il bene di tutta la cittadinanza. E' su questa che dobbiamo lavorare molto anche in termini di comunicazione, che prendersi cura nella sanità, in tutti i settori, nei diritti che sono universali, devono partire da questa consapevolezza e uscire fuori con la convinzione che non lavoriamo per l'altro, ma lavoriamo anche per noi, che l'opportunità è per tutto un paese. Quindi io sono felice di rendervi partecipi dei nostri lavori e allo stesso tempo di riuscire magari a tirare vantaggio di quello che uscirà da questo incontro. Grazie. Grazie.